Ciao amici di Outkast, sempre qui da San Francisco per parlare di Worth Than Death, peggio da morte, che è il nuovo gioco di Benjamin Rivers, creatore di Home e di Alone With You, Home era un gioco horror 2D, uscito praticamente in contemporanea Alone Survivor, però per caso. Alone With You, no, di horror aveva poco, era più un'avventura biografica, se vogliamo, con questo stile visivo ispirato al Mega CD. E questo, Worth Than Death, torna all'idea del gioco horror 2D, molto atmosfera, più horror tradizionale, se vogliamo, di Home, sempre con una forte componente narrativa, però gioca molto sullo stealth, sulla necessità di nasconderti, di sfruttare gli angoli bui, o metterti dietro i mobili, o roba del genere, per non farti vedere a queste creature strane, deformi, che tentano di farti fuori. Gioca molto sul senso d'ansia, sul fatto che hai una barra della stamina, che si consuma quando corri, che normalmente nelle fasi un po' più avventurose, ovviamente non è particolarmente un problema, ma quando arrivano questi mostri, c'ha l'ansia, il cuore che batte forte, cambia colore le cose, vedi peggio, la stamina si consuma di più, se corri mentre c'è il cuore che batte forte, ti sentono e quindi si mettono anche loro a correre per acchiapparti, robe del genere. La storia racconta di una riunione, insomma una riunione con i compagni del liceo, che è la cosa più terrorizzante di tutte, credo che tutti quelli che sono andati a vedere il gioco gli abbiano detto, ah è già un horror solo per quello, e lui ha detto, boh non lo so, io non ci sono mai, la sua risposta è, io non ci sono, me la sono persa la riunione con i compagni del liceo, e anche per questo, che è un po' me spiaciuto, ho fatto sto gioco, ah vabbè, e però poi arrivano pure i mostri, e c'è la gente sventrata, un delirio, quindi sarà un mix di racconto horror e di probabilmente anche flashback, ricordi, l'adolescenza, le menate. Molto carino, visivamente molto bello con questa grafica pixel art, con poi quando i personaggi parlano, i ritratti grossi disegnati a mano proprio da lui, che è un illustratore di professione, insomma con origini lavorative, diciamo, mi sembra probabilmente c'è una bella atmosfera, mi sono quasi cagato sotto in un paio di punti, gli enigmi anche sono abbastanza sfiziosi, sono del tipo, indaga in giro per le stanze, scopri cose che ti suggeriscono, quale possa essere il codice per aprire la porta, robe del genere, ma sono curioso, voglio giocarci, è in arrivo su PC, su piattaforme mobile e su Switch, io l'ho provato su Switch, perfetto, quindi poi vuoi cagarti sotto, ci giochi su Switch, sulla tazza. Perfetto direi, oppure ci giochi alla riunione dei tuoi ex compagni di scuola, così non ci parli, è bella lì. Bene così, bene, per Worse Than That è tutto, ciao! 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 Ciao!